Ho chiesto un consiglio regionale straordinario dove si parla solo dell'agricoltura, solo dei problemi, ma soprattutto delle possibili soluzioni. Chiara la richiesta di Dino Pepe, consigliere regionale dell'APD e di tutte le forze di opposizione in consiglio regionale, una seduta straordinaria perché il tema dell'agricoltura legato al maltempo, alla siccità è molto serio. I danni riguardano la filiera vitivinicola che ha perso oltre il 60% della produzione con perdite di oltre 60 milioni di euro, ma anche nella Marsica la situazione è pesante. C'è bisogno di investimenti particolari per quanto riguarda innanzitutto il ricambio generazionale e quindi stimolare ulteriormente i giovani ad indapprendere attività nel campo agricolo e poi ovviamente l'innovazione, la ricerca, sostenere con forza il biologico e il biodinamico e in più l'aggregazione è fondamentale. Noi dobbiamo sostenere le aggregazioni possibili in ogni settore dell'agricoltura poiché attraverso l'aggregazione si riesce a fare ricerca ma si riesce soprattutto ad essere sempre più competitivi sui mercati nazionali e internazionali. Serve dunque un sostegno importante alle cooperative, alle società, alle piccole imprese. Serve un incontro con l'Associazione delle Banche per la sospensione dei mutui ma servono anche finanziamenti e risposte dall'organo politico regionale. C'è la necessità e soprattutto l'esigenza da parte delle imprese, delle cooperative, delle piccole aziende agricole che hanno difficoltà finanziarie importanti e quindi una sospensione dei mutui da questo punto di vista, un accordo con l'ABI, l'attivazione dello stato di calamità per questa regione, la deroga per quanto riguarda il decreto 102 e quindi la copertura anche dei danni al di fuori dell'assicurazione competente da questo punto di vista.